Piero Angelo Pesce, ennesimo incontro dei lavoratori stagionali qui al Polifunzionale. Sembra che il prossimo appuntamento verso il quale si vuole convergere tutti insieme sia Roma, Montecitorio. Adesso il 23 come sta parlando Ferdinando Caredda, ci sarà una manifestazione a Napoli, alla regione dove praticamente si porteranno delle condizioni scritte da noi, da un progetto scritto da un po' di tempo, qualche punto che tende a tutelare i lavoratori stagionali purtroppo dimenticati. Diciamo che in Campania ci sono circa 35.000 i lavoratori stagionali che purtroppo non possono usufruire di nessun tipo di sussidio, se non le chiacchiere, perché attualmente tra le emissioni di contratti erogati da agenzie interonali e condizioni relative a un qualche cosa di stagionalizzazione, di stagionalizzazione, non è arrivato niente se non a qualcuno. Il problema è proprio la carenza di regole e di norma. Quindi non abbiamo fatto altro che noi, perché siamo il solito gruppo di lavoratori stagionali uniti, con Riccardo, Marianna, tutti gli amici, non abbiamo fatto altro che portare avanti un progetto che ormai si sviluppa da più tempo, sono circa cinque anni, con dei punti ben formati e scritti su carta che dopo verranno messi in evidenza, con la richiesta fondamentalmente di un contratto per i lavoratori stagionali, con misure di ammortizzazione nel caso in cui dovessero succedere eventi straordinari come questi, che possano tutelare in maniera evidente e rendere degno chi comunque ha lavorato e ha pagato dei contributi e che si è trovato ad essere investito non solo dal Covid ma anche dall'incertezza dell'agenzia interinale. Questa è una vergogna, perché se l'agenzia interinale è un'agenzia di somministrazione e prevede la somministrazione in ambiente turistico, dovrebbe valere anche la somministrazione in ambiente turistico per chi ha prestato servizi in ambiente turistico. Il discorso è semplice, questa carenza di norma è stata messa in evidenza dal Covid. Il Covid da un certo punto ha ucciso un sacco di persone e a noi ci togliamo il cappello davanti a queste cose, però ha messo in evidenza, come ho ripetuto precedentemente, la carenza normativa in Italia è di una situazione fallacea come non mai e ci sembra abbastanza vergognoso come i lavoratori stagionali uniti. Siamo un gruppo di amici, lo ribadisco, perché se vogliamo fare strumentalizzazione, a partitico e a politico, non ci rivediamo in nessun tipo di colore, ma nella volontà sociale e nella comunicazione di poter, insomma, favorevolmente cambiare qualcosa. Giacomo Pascale, ex sindaco di L'Acquameno, presente oggi all'ennesimo incontro dei lavoratori, presente il vescovo di Ischia Pietro Lagnese, i primi cittadini dell'Isola Verde, insomma all'ennesimo incontro per porre ancora una volta l'accento su una situazione che nonostante si avvicini la stagione lavorativa, guardando al futuro sembra sempre drammatica. Sì, innanzitutto ho ringraziato dell'invito Caredda, è un dovere esserci nonostante, come si sa, non ricopro più la carica di sindaco. Mi piace pensare che però da questo incontro, proprio perché sono presenti i sindaci, si possa arrivare ad una proposta che deve uscire dall'Isola Dischia. Io sono convinto che questa protesta, ancorché legittima, ancorché condivisibile sul piano umano, però sul lato strettamente politico non produce risultati se non si prende la strada di Roma e come tutte le emergenze si rappresenta il dramma alle forze politiche affinché intervengano per rimuovere i motivi ostativi e per far sì che queste persone possano innanzitutto vedersi tutelati i propri diritti. C'è gente che ha perso il lavoro, un lavoro che, sebbene non faccia rima con la parola dignità, però è legato a strettissimo giro con il concetto di dignità, con il concetto di indipendenza e anche di libertà. Un'isola che si scopre forse troppo vulnerabile grazie a questa emergenza? No, l'Isola Dischia sicuramente aveva ed ha dei problemi che sono atavici e che non siamo stati capaci di affrontare e di risolvere. È evidente che questa pandemia ha messo in ginocchio l'economia intera. L'Isola Dischia non poteva pensare di salvarsi all'interno di questa grossa crisi sociale ed economica che sta per esplodere. È altrettanto vero però, come dicevi tu, che molto probabilmente l'emergenza potrebbe anche essere un'occasione per montare un progetto, di immaginare un'isola diversa e mettere in cantiere la risoluzione di tematiche che ci portiamo da molti anni. Sicuramente il futuro che ci attende non è roseo. Noi siamo davanti a una crisi economica e sociale senza precedenti e da ottobre evidentemente ci renderemo conto di che cosa sta accadendo e cosa accadrà sulla nostra isola, anche perché pare che tra l'altro i provvedimenti del governo nel settore turismo siano proprio lasciati in coda a una serie di provvedimenti e comunque non coprono quello che sono i reali fabbisogni. Roma, unica speranza? Sì, io sulla scorta dell'esperienza maturata con la gestione dell'emergenza sisma resto convinto che noi dobbiamo vedere la norma in vigore che ha bloccato i bonus ai lavoratori stagionali, proporre un emendamento a tutte le forze politiche, ognuno deve fare la sua parte perché nei momenti difficili non esiste appartenenza politica ma esiste solo rapporto e fiducia nelle istituzioni andare a Roma anche perché questa attività sicuramente poi potrebbe portare diciamo in luce coloro i quali fanno i fatti e coloro i quali continuano a fare chiacchiere o addirittura a speculare sulla pelle dei lavoratori. A vivere questa emergenza coronavirus, Marianna la stai vivendo in tutti i modi come rappresentante del mondo delle associazioni in un primo momento come coordinamento delle varie forze che hanno aiutato le persone più in difficoltà sin dai primi giorni di questa pandemia, ora al fianco insieme agli altri, a Pierangelo e a tutti gli altri che condividono con te questo percorso, al fianco dei lavoratori una crisi che qualcuno immaginava già dall'inizio ma forse non così forte. Io per prima sono una lavoratrice stagionale perché per fortuna il mio è uno dei primi alberghi che ho aperto quindi sono in questo una privilegiata. Ovviamente era doveroso sposare la causa di quelli che sono la maggior parte dei miei concittadini dei nostri concittadini perché si prospetta un autunno, un inverno non pandemico ma sicuramente con una grave crisi sociale e visto che sono mancati i sostegni e comunque lavoreremo per pochi mesi con contratti sicuramente diversi rispetto a quelli che avevamo prima o comunque molti non apriranno proprio quindi ci saranno molti più disoccupati e molta sofferenza. L'unica cosa che possiamo fare è veramente unirci, unirci con le amministrazioni che vedo qui presenti ma questa volta proprio concretamente andremo in regione per far valere i nostri diritti e poi andremo il 2 luglio in Parlamento. Ovviamente saranno insieme ad altri lavoratori stagionali d'Italia, saranno piccole voci però è importante che ora che tutto si sta riaprendo che non venga soffocata questa voce perché ci ritroveremo ad ottobre ad essere disperati e questo soltanto con l'unione e con momenti come questi di riflessione e anche di proposta, di progettualità si possono superare. Tutto qua. Ferdinando Caretta, rappresentante per la Campania dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori Stagionali qui al Polifunzionale per incontrare il tessuto lavorativo dell'Isola Dischia per mettere insieme le istanze e cercare di far arrivare la voce di quest'isola, di questo popolo prima in regione, prima qui nell'ambito della nostra Campania e poi a Roma. Sì, allora abbiamo insieme i ragazzi che si sono costituiti in un gruppo di lavoratori stagionali uniti a Ischia come rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali stiamo sollecitando le autorità locali per portare all'attenzione nella manifestazione che sia l'Associazione Nazionale dei Lavoratori Stagionali sia il CUB, il sindacato CUB ha organizzato per il 23 sotto la regione Campania. dicevo per l'appunto stiamo sollecitando le autorità locali a portare sul tavolo della regione Campania le nostre istanze in cui chiediamo un contratto nazionale del lavoro stagionale e l'estensione della Naspi Fiat 2021 e in futuro riproporre di nuovo il vecchio dispositivo per gli amortizzatori sociali perché appunto a Ischia stiamo vivendo una precarità già da cinque anni, non indifferente. Con questa pandemia rischiamo veramente di rimanere in ginocchio tutti i lavoratori e quindi abbiamo bisogno di lavoro e come è detta la Costituzione di una retribuzione tutto l'anno. Con Luca D'Ambra di Federalberghi, qui al Polifunzionale, al fianco dei lavoratori stagionali anche l'Associazione degli Albergatori non è voluta mancare a questo appuntamento? No, assolutamente no ed è anche vero che nell'audizione nazionale in questo momento il nostro Presidente ha messo come primo punto l'esigenza di tutelare i nostri collaboratori. È importante far capire anche a tutto il comparto che ci sono delle pratiche che noi come Associazione del Bergatori assolutamente consigliamo di evitare e sono quelle pratiche di cui si parla in questi giorni. Ricordiamo che Federalberghi fa parte dell'ente bilaterale e quindi collabora costantemente anche col comparto proprio perché attraverso queste forme di assunzione noi poi possiamo apportare corsi di formazione, borse di studio ai nostri dipendenti. Quindi per noi i collaboratori, ripetiamo, sta al primo posto proprio perché anche da un punto di vista territoriale noi non vogliamo perdere delle risorse specialistiche che oramai collaborano con noi anche da decenni. Sono circa le 19.10 mentre registriamo questa intervista. Oggi la giornata delle consultazioni del Presidente del Consiglio e degli Stati Generali con proprio il comparto turistico e con il comparto dell'agricoltura è già filtrato qualcosa? Come sta andando la discussione? Ci sono già delle risposte che sono arrivate dalla politica? No, praticamente adesso tutte le istanze vengono raccolte e quindi poi si creerà sicuramente un'elaborazione del comparto. È chiaro che in questo momento quello che possiamo dire è che riunioni di questo tipo ci sono in Spagna, ci sono in Francia, ci sono in tutto il mondo. Il turismo in questo momento è fermo. Noi abbiamo dei dati a livello nazionale che sono veramente agghiaccianti. quindi forse è venuto il momento in cui un territorio e tornando diciamo a una dimensione forse locale come Ischia si possa reinventare e possa creare anche o immaginare anche delle economie alternative volte a un'autosufficienza possibile per un'economia diffusa. quindi un qualcosa che va a ragionare non solo in un ambito turistico ma magari parallelamente al turismo. Ancora una volta il Vescovo di Ischia, vicino alle questioni dei lavoratori, passano le settimane, passano i mesi dall'inizio di questa pandemia, la sensazione è che la crisi serpeggi in maniera sempre più forte. Sì, ed è per questo che sono qui. Sento il dovere di essere a fianco ai lavoratori stagionali che stanno vivendo, ce lo stiamo dicendo in questo convegno, già è stato sottolineato più volte, una situazione davvero drammatica. Penso che come Vescovo io debba essere accanto alle persone che vivono questo disagio e anche far sentire la mia voce. Per questo domani anche sarà pubblicata una lettera da parte mia a tutti gli imprenditori isolani per chiedere che anche loro facciano la loro parte. Certo c'è una parte che deve fare la politica, la classe politica a tutti i livelli a incominciare dagli amministratori locali, ma c'è una parte che dobbiamo fare anche tutti noi e c'è una parte che dobbiamo fare gli imprenditori, ai quali chiediamo in qualche modo in questo momento di crisi di ascoltare la propria coscienza e di restituire in qualche modo quanto hanno ricevuto da quest'isola, tanto hanno ricevuto. Questo è il momento in qualche modo di restituire. Non bisogna avere paura di perdere, nella consapevolezza che condividere non è mai perdere, ma è guadagnare. Per cui mi sembra che riaprire sia anche un atto di saggezza. Conviene riaprire, conviene a tutti, non solo ai lavoratori stagionali, conviene all'isola, conviene agli imprenditori, conviene davvero ad ogni ischitano. Quando scopre un incendio, scrivo nella lettera che sarà pubblicata domani, il rischio è quello di cedere alla tentazione di chiudersi dentro, ma non è questa la strategia migliore. La strategia migliore è uscire fuori e cercare insieme di spegnere l'incendio. Ed è questo ciò che mi sembra che tutti dobbiamo fare. Per questo sono qui e per questo mi sembra che questi momenti siano importanti. Vedo che a volte qualcuno è scoraggiato perché ritiene che questi momenti non servano, invece sono importanti. Dobbiamo avvertire il bisogno di vivere una cittadinanza attiva. Non possiamo delegare tutto alla politica. Dobbiamo far sentire la nostra voce perché a sua volta la politica possa fare la propria parte. Con il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, ennesimo incontro con i lavoratori stagionali, da padrone di casa, da amministratore locale, per la verità anche insieme ai vari omologhi dell'Isola Verde, per stare al fianco di una categoria che sembra davvero in ginocchio. Sì, sono fasi drammatiche da un punto di vista sociale che l'Isola di Ischia sta vivendo ed è d'obbligo la vicinanza e la solidarietà rispetto ai lavoratori stagionali. In verità la problematica dei lavoratori stagionali non è soltanto una problematica ischitana, ma è una problematica che perviene da tutti i territori che sorregano la loro economia grazie al turismo. Il turismo finisce per fare a cazzotti con quelle che sono le conseguenze della pandemia che purtroppo stiamo registrando e stiamo riscontrando nel mondo. Servono delle misure urgenti di sostegno a questi lavoratori che difficilmente nella stagione in corso riuscirà a lavorare nella sua entità massima o completa. Per cui ben vengono incontri come questi che possano servire per organizzare una piattaforma di rivendicazione da condividere con gli altri lavoratori stagionali di tutta Italia e che questo possa essere un punto di riferimento per coloro che a livello nazionale muovono le leve di meccanismi economici che possono in qualche maniera venire in aiuto e in soccorso di queste persone. Provo a salutarla con una provocazione, Sindaco. Abbiamo parlato con il Vescovo di Ischia che ci ha parlato del fatto che forse per tanti imprenditori sia arrivato anche il momento di preoccuparsi solo di dare, di condividere senza badare solo a quanto si può prendere da un territorio. Il riferimento è ovviamente a tante strutture, specialmente alberghiere, che sono chiuse, che probabilmente resteranno chiuse. A questi imprenditori che cosa si può dire? È arrivato il momento che ognuno, ogni attore sociale ed economico faccia più di quel che può. Noi per esempio come ente locale abbiamo avvertito questa forte esigenza e nonostante siamo e versiamo in una situazione di difficoltà finanziaria abbiamo creato una proposta economica mettendo sul tavolo 1.600.000 euro in due annualità per avviare un volano positivo per l'occupazione, a sostegno dell'occupazione proprio per incoraggiare quegli imprenditori un attimino più timidi nella ripresa a invece essere più decisi nella riapertura e nel riavviare il volano economico della nostra terra, del nostro territorio in modo tale da assorbire quanto più lavoratori stagionali possibile dando la prospettiva di poter superare questo momento difficile del 2020 e farli affacciare quindi in maniera valida nella prossima annualità del 2021.